All'alba di oggi, lunedì 8 luglio, la Calabria è stata scossa da un terremoto di magnitudo 3.6. La scossa è avvenuta alle 4.51 nel sud ovest della regione, precisamente in provincia di Reggio Calabria. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riportato che l'ipocentro del sisma si trovava a 58 km di profondità, mentre l'epicentro era localizzato a 5 km a sud ovest del comune di Rizziconi. Nonostante la scossa sia stata percepita in tutta la provincia, fortunatamente non si registrano danni a persone o edifici. Numerosi utenti sui social network hanno testimoniato di aver avvertito il terremoto, in particolare nelle aree di Gioia Tauro, Seminara e Palmi. L'evento sismico di oggi segue un altro episodio recente. Il 10 maggio scorso una doppia scossa di terremoto aveva colpito il territorio di Deglia Nuova, sempre in provincia di Reggio Calabria, ed era stata avvertita dalla popolazione locale. Anche in quell'occasione, fortunatamente, non erano stati riportati danni significativi.